ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video della tutto tech nel video di oggi vi farò vedere il tv smart che ho acquistato in 32 pollici della i sense è un full hd e ha il nostro assistente vocale integrato io pensavo fosse un qualcosa di complicato riuscire a far funzionare questo dispositivo che magari servisse qualche crocchio particolare invece no come andremo a vedere nel video è una procedura molto semplice ma non perdiamo tempo e andiamo a vedere per prima cosa entriamo nel menu del televisore ci spostiamo in alto e andiamo sull'ingranaggio che sono le impostazioni a questo punto scendiamo fino alla voce sistema e andiamo su servizio vocale qui ci dà la possibilità di utilizzare il nostro assistente vocale come vedete in basso c'è scritto imposta l'assistente vocale e qui dobbiamo dare il nome al nostro televisore allora siccome io ho già un tv quindi non vorrei che si confondesse vado su personalizza e utilizzerò la parola monitor gli diamo l'ok adesso ci dà delle indicazioni ci dice di andare a scaricare l'applicazione della nostra assistente vocale accedere naturalmente nel frattempo vi dico che io quando ho acquistato il televisore ho già fatto l'accesso sia creandomi un account sul sulla la marca i sense sia utilizzando le impostazioni di amazon quindi sono riuscito ad entrare nell'impostazione del mio assistente vocale a questo punto ci spostiamo sul cellulare siamo sull'applicazione del nostro assistente vocali entriamo in skill e giochi ed andiamo ad abilitare la skill vita eccola qui è la prima che vi compare ci cliccate sopra la selezionate allora come vedete io ho già la skill attivata naturalmente avevo già fatto una prova voi vi basterà semplicemente come per tutte le altre skill fare abilita vi chiederà di fare il login della password che avete utilizzato per il vostro televisore e poi dopo vi chiederà l'autorizzazione per poterla abbinare col nostro assistente vocale voi date tutte le autorizzazioni a questo punto comparirà il messaggio che il dispositivo vocale ha riconosciuto la skill una volta abilitata la skill tac pronto e vi dà già degli esempi nome dell'assistente vocale spegni monitor metti il volume a 5 su monitor metti su hdmi su monitor perché funziona non con un dispositivo esterno ma avendo collegato la skill al nostro assistente vocale andrà ad agire direttamente sul televisore grazie al fatto che anche il televisore è collegato ad internet quindi al mio modem e con una serie di ponti l'uno sull'altro possiamo andare a creare queste impostazioni diamo fine abbiamo effettuato tutto quello che c'era da fare facciamo una prova magari col volume alexa alza volume monitor come vedete sulla parte destra compare il simbolo del volume proviamo a dargli un comando un po più specifico alexa alza volume di 5 su monitor e come vedete era 40 è passato a 45 alexa monitor canale 5 non ho fatto la selezione dei canali perché io con questo televisore utilizzo sky quindi giustamente mi dice guarda che se vuoi inizio la scansione dei canali a noi me non interessa sinceramente quindi possiamo tranquillamente tornare al menu alexa spegni monitor bene come avete potuto vedere i passaggi sono veramente semplici il televisore risponde a tutti i comandi che gli vengono dati ma soprattutto volete mettere la comodità dal letto di non stare lì a cercare il telecomando diventa un problema eccetera 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 è vero dovrò mettere un altro panamalar da questa parte per poter remotare il mio tv il mio decoder di sky il televisore un televisore isense 32 pollici ai tempi lo avevo pagato con il black friday sui 139 euro circa attualmente sta ad un prezzo di 179 euro comunque per le caratteristiche che ha a me andava più che bene ed effettivamente per circa un mese un mese e mezzo che ce l'ho devo dire che mi trovo benissimo non ho problemi di nessun tipo anche le recensioni comunque portavano una votazione molto alta quindi mi sono convinto l'acquisto ed effettivamente mi trovo veramente bene quindi se volete acquistare questo tipo di televisore che magari vi può servire per la cameretta per la camera da letto come nel mio caso vi lascio qui sotto il link in descrizione bene ragazzi io direi per questo video è tutto ci vediamo al prossimo ciao ciao